Prevenzione della Corti Pisani Finalmente Valeria Sottini che dicerà la foto sul pisa di Giannetto e dice una volta che ho fatto una passione di saldata da Corti Pisani per la Corti Coci Profeo chiamo qui Manuel Trelli Sì la tua fidanzata è a te è quasi simile a te ma non ci sono ma anche te lo vedete la mia insieme la fisca non si fa in maniera questo è il problema riconosce il rumore e valorizzare il territorio ma un buon messo, non sei a te se non hai insieme a te e per la tradizione della seconda volta una cosa buona sei contento? ma stavamo sempre sulle strade con un pezzo che è scritto in maio è in casa e quindi lo ringrazio molto con un po' con un po' ma è vero? vediamo anche dei canoni da bello questo caldo è ora di filmare te è vero? è bello questa cosa si si La comuna quasi calzone con un corno di Ritrov e lo danza dei pubblicati di oggi è una rivoluzione molto fine Grazie Un quadro tutto e due, aspetta Puoi mancare qui? Un quadro in campo? Un quadro in campo? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.